Sarebbe dovuto stare a casa agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico alla caviglia il ladro di origini rumene che la notte tra il 13 e il 14 agosto è stato arrestato dagli uomini dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico in servizio di volante all'Aquila. Era passata la mezzanotte quando i poliziotti della volante hanno raggiunto il complesso Rottiglio Center per una segnalazione di una persona all'interno negli ufficio dell'ex service ditta che avendo ricevuto il segnale di allarme ha subito avvisato il 113. Giunti immediatamente sul posto hanno notato uscire dallo stabile un uomo con un copritombino inghiese sulle spalle che una volta scoperto lo ha gettato a terra dileguandosi in direzione della SS80. Durante l'attività di perlustrazione alla ricerca del fuggitivo il personale ha sorpreso l'uomo che con un oggetto metallico tentava di rompere una porta in vetro di un'altra attività commerciale. L'uomo nuovamente scoperto è scappato per la seconda volta e dopo l'inseguimento è stato acciuffato. Negli uffici dell'ex service lo straniero aveva forzato e danneggiato la porta d'ingresso, l'impianto elettrico, il sistema d'allarme, alcuni computer e un condizionatore. In alcuni vani aveva messo tutto a soccuadro. Il rumeno è attualmente destinatario di una misura cautelare agli arresti domiciliari con l'applicazione di un braccialetto elettronico in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, provvedimento emesso lo scorso 18 aprile. Il soggetto è comunque noto agli uffici investigativi ed operativi della Questura e delle altre forze dell'ordine territoriali per i numerosi pregiudizi di polizia a carico, quasi tutti riguardanti i reati contro il patrimonio, riportati nella sua ormai lunga permanenza nel territorio aquilano.